Allora, io da questa esperienza mi aspetto una crescita ovviamente, un confrontarmi con altre persone che fanno il mio stesso lavoro e appunto alla fine puoi saper consigliare a un eventuale cliente il look completo di modo che possa uscirne al meglio. Allora, alla fine di questa avventura mi vedo cresciuto in questo ambito e forse anche a livello psicologico, siccome non sono mai stato a confronto con altre persone, forse migliorato, tutto qua. Ero entrato qua super agitato, super super super, però veramente mi hanno messo a mio agio un casino. Devo ancora un attimo tranquillizzarmi del tutto, però sono contento, erano molto contenti anche del mio outfit, ho detto che sono perfetto. E che dire, la mia modella hanno detto che era perfetta, cioè andava bene, anche per l'idea che avevo. E' emozionante comunque stare dentro, davanti a tre, più il cameraman. Rifarei questa esperienza perché mi ha dato molto, molto a livello emotivo, a livello testa, anche per il mio lavoro ovviamente, la crescita. La consiglierei e probabilmente approfondirò. Grazie. Grazie.